Mi piace la paura, eh? Ma vi racconto una storia vera di paura altro che Halloween. Ascolta, ho un problema. Eh, dillo a tuo papà. Mi sono fidanzato. Ma meraviglioso! Con un'umana? Benvenuti! Dovete promettermi che non userete i vostri poteri su di lei. Come sei bella, Luna! Grazie, pronelte. Mi chiamo Salma. Salma! Noi tutti dobbiamo accettarla. Credo che lo zio ti abbia preso in parola. Ad Alberto. Quell'animale è il padre della ragazza. Scusate l'improvvisata, noi abbiamo rimediato solo questa. E comunque è una signora a bottiglia, voglio dire. Sono sempre dubbiate. Piotte. Figaro. A te te si tengono per piacere insieme a te maledità, vè? No, io c'ho il capannonimo e ho il testato tutto a mia moglie. C'avevo i guidagli a qua. Quelli che succhiano il sangue. E che te lo dica a fatti? Adesso vado da Alberto e me lo riprendo. Non so, voglio diventare un vampiro. Mortimi, che ti costa? In fondo ogni famiglia è un po' mostruosa a modo suo, no? Io voglio vivere da umano. Quindi l'hai detto chi sei? Non lo vuoi capire che se il timore ti succede come a me, non diventerai mai adulto. Ma li hai visti gli adulti?